E' accusato di aver terrorizzato per un anno la cittadinanza aquilana, con atti intimidatori nei confronti di parenti, amici, della sua ex ragazza, ma anche di sconosciuti, facendo poi ricadere le colpe sulla donna. Definendolo uno stalker seriale, la polizia dell'Aquila ha arrestato un uomo di 38 anni. L'indagine è partita da una serie di denunce querele per atti persecutori personali e nei confronti del proprio nucleo familiare, fatte da una donna aquilana. L'uomo, un esperto informatico, aveva avuto una breve relazione con la donna e conosceva bene la sua famiglia, avendo anche prestato opera di consulente informatico. Da tecnico esperto, pare che l'uomo abbia attivato degli stratagemmi informatici che hanno procurato imbarazzanti turbamenti quotidiani, violenze psicologiche ed economiche alla famiglia della donna. L'uomo realizzava documenti, messaggi e mail che inviava da diversi account creati di volta in volta e corredati da dati e generalità di altre persone, sostituendosi di fatto a queste per finalità offensive, estorsive, minacciose e compromettenti. Per tutto l'anno appena trascorso, con i dati della donna, lo stalker, sempre in via telematica, avrebbe aperto conti correnti, richiedeva l'attivazione di servizi televisivi o telefonici o società finanziarie e acquisti online. Inoltre, avrebbe pubblicato foto sui vari social network, in cui faceva apparire la vittima come offerente di prestazioni sessuali. L'uomo è inoltre accusato di aver creato panico in città. A settembre scorso avrebbe annunciato con una serie di telefonate a distanza di pochi giorni la presenza di un ordigno all'interno di una scuola materna frequentata dal figlio della sua ex e dove la donna aveva lavorato fino al maggio 2015, periodo in cui lo stalker aveva effettuato la prima telefonata allarme bomba, che aveva poi determinato il trasferimento della donna. Sebbene fosse un esperto informatico a tradire l'uomo, pare siano state le tracce di un fotomontaggio lasciate anche dopo la cancellazione.